Tu natai, notte d'amor, tra noi sceso e redentò, Da sua madre lo sta veglia. Quindi direi di partire subito. Allora, partiamo dall'album delle figurine e poi vediamo la Barbie Extra e i Pokémon. Allora, l'album delle figurine è uscito in edicola ed è di panini. E costa 2,90€ la confezione con due bustine. Io ne ho prese altre quattro, perché comunque ragazzi hanno un costo eccessivo, un euro cada una. Prima costavano molto meno e quindi diciamo che, insomma, spendere cifre assurde per un box di bustine, preferisco comprarmi le bambole, assolutamente. Però l'album si deve avere, non potevo non prenderlo. Guardiamolo nei dettagli. È ispirato a Barbie Dreamhouse Adventure. Non capisco perché l'abbiano fatto quando la serie è finita, perché adesso c'è la serie, stiamo in due. Ecco qui, ci sono due bustine. Potevano farlo un po' prima, vabbè, meglio tardi che mai. Allora, questo è l'album, molto grande, molto bello la copertina olorografica con Barbie e Nicky. Allora, guardiamolo. All'interno contiene altre figurine. Questo è il suo interno. Barbie e la sua famiglia si sono appena trasferiti nella nuova casa Malibu. Non vedono l'ora di mostrarte. Lei qui, ogni pagina è dedicata al personaggio. Qui abbiamo la meravigliosa Barbie. Bellissima. Delle figurine. L'album è molto grande, molto bello e molto pieno. Nei sorelle di Barbie. Chelsea, Skipper, Stacey. I cuccioli di Barbie. E dopo vediamo qualche bustina come sono fatte le figurine. Oh, friscono mi Ken Carson. È il vicino di casa di Barbie. Passano molto tempo insieme. Ormai è uno di famiglia. Oh, friscono mi bellissimo. Che bello, friscono. E qui è la puntata di Natale. Stupenda. Poi abbiamo Nicole, Nicky Watkins, Daisy, Costopouls, René Ciao, Teresa Rivera. La pagina dedicata a Tammy, l'antipatica. Tammy Bonesway. L'odiosa di questa serie. Poi abbiamo il Liceo Golden Beach. Qui ci sono varie stanze. Il poster che si apre ed è fatto in questo modo. Ah, veramente bello quest'album. Super pieno. E pagine stampate bene, doppie. Quindi veramente stupendo. Ecco qui. Poi abbiamo anche tre Reardon. Ovviamente i genitori immancabili. Poi ci sono degli episodi, figurine dedicate agli episodi, tra cui lo special film Il mistero della sirena magica. Che questo è uno special movie di 60 minuti. Bello. Poi abbiamo anche quest'altro episodio, lo Sporatune parte 1. Che è frisco, che è in costume. Ecco qua. Qui abbiamo lo Sporatune parte 2. Sempre un altro speciale episodio. Amici per la pelle. Siamo le migliori. Qui si può colorare Barbie. Bellissimo. Poi ci sono, queste sono le figurine speciali. E l'album si compone da ben 143 figurine. Eccolo qua. Qua ci danno in dotazione altre bellissime figurine che sono molto, molto grandi. Bellissimo. Normalmente molto, molto bello. Mi piace un sacco questo album e ve lo consiglio. Adesso aprirò qualche bustina con voi per vedere come sono fatte. Poi le altre le apro da me. Allora, questa è una bustina. Barbie Dreamhouse Adventure. Ci sono Barbie e Nick ed è sempre della Panini. Vediamone qualcuna insieme. Poi le altre le aprirò io. Perché se no il video viene lungo un'eternità. Allora. Queste sono le figurine. Molto belle e grandi. Con immagini stampate bene. Barbie Dreamhouse Adventure. Bella. Questa qui è quella glitterata. Con taffi. Piena di glitter. Poi abbiamo Daisy. Qua abbiamo Barbie. Molto bella. E Skipper. Ne apro un'altra. No, sono veramente belle queste figurine. Molto grandi. Cioè, devo dire la verità, non me le aspettavo così belle. Quasi quasi prenderò altre bustine. Perché poi c'è Elsie. Poi abbiamo quest'altra qui. Già è uscito un doppione, ecco. Perché le odio. Daisy che è già mai riuscita prima. Barbie e Teresa. Barbie e Ken. No, questa è stupenda. Questa l'adoro. Stupenda. Come sono belle. Come sono belle. Che frescono. E poi Barbie super olografica. Va bene. Molto bello quest'album. Devo dire la verità. Adesso vediamo la Barbie Extra. Allora, ecco la Barbie Extra Mini Wave 2. Per adesso ho trovato solo lei a un prezzo accessibile. Perché le altre costano sopra i 30 euro. Lei l'ho pagata 13 euro nel Black Friday di Amazon. Questo è il logo Barbie Extra Minis. Qui abbiamo il logo Mattel. La parte nel blisterone ci sono dei cuoricini e delle nuvolette molto carini. Qui c'è tutto lo sfondo arcobaleno. Mi sembra che questa scatola a occhio sia più grande della prima Wave. Adesso non ce l'ho perché ce l'ho in deposito per fare un confronto. Però ad occhio e croce mi sembra leggermente più grande. Dietro c'è sempre questo sfondo arcobaleno. Il logo Barbie Extra Minis. E le solite inutili avvertenze che non interessano a nessuno. E il logo Mattel. Ora la tolgo dalla scatola così la vediamo nei dettagli. Allora, eccola qua fuori dalla scatola. È veramente molto carina. La sua particolarità che sale subito agli occhi. Siamo nei suoi capelli. Che sono di anticolore arcobaleno. Partendo appunto dalla codina al lato sinistro. Che è tutta ondulata con varie colorazioni dal viola al azzurro al giallo. Insomma tutti i colori arcobaleno. Anche qui questa parte come possiamo notare c'è anche una ciocca arancione. Perché poi la predominante è sempre del viola, azzurro, qualche giallo. Infatti anche qui sulla testa è mezza azzurra e mezza rosa fucsia. Che predomina però la parte destra della ciocca. Con mesh sempre azzurro, viola e arancione. Super super colorata. Ha dei mega occhialoni purtroppo legati. Quindi consiglio di non muoverli. A forma di fiore nero. Il trucco ha del rossetto violetto brillantinato. E del farde del mascara color nero. Super mega orecchioni a cerchio perlati bianchi. E il suo outfit è molto carino. Sotto ha una magliettina... Ah no. Ha un vestitino. Scusate. Ha un vestitino. Un unico pezzo bianco. Con fiorellini in bianco e nero disegnati sopra. E poi indossa questa parte qui del vestito. Che è in plastica rosa trasparente. Che è praticamente fatta in questo modo. Mantenuta con del velcro. Con le due bretelle. Non la metto sullo stand ragazzi perché non ci va. Non lo so perché sono io che ne lo so mettere. Per questo la tengo in mano. E poi ha questo bottoncino giallo stampato. E ovviamente ha delle scarpette da ginnastica bianche. E snodi classici. È molto carina. Veramente fatta bene. Anche la sua borsettina viola con il fiore giallo. E questo è il suo stand. Che non so per quale motivo ma lei non ci va. Eccola qui. Carinissima. E niente. È molto carina. Ovviamente necessita di una sistemata ai capelli. Però veramente super stupenda. Adesso passiamo al Pokémon. Allora abbiamo qui Sylveon. Finalmente ho trovato Sylveon. Che è l'evoluzione di IVI che preferisco in assoluto. L'ho trovato al Toys. L'ho pagato un po' tantino. 14,99. Però purtroppo non si trova Sylveon. Perché è della nuova serie. E tra l'altro bisogna prenderli da vicino. Perché sono pieni di difetti. La scatola sempre uguale. Loco Pokémon. Quattro anni in su. Fa parte delle Battle Figures. E dietro guardiamo i personaggi della nuova Wave. Mi piacerebbe tanto trovare Magmar ed Electabat. E questi vengono venduti in coppia. Adesso la tolgo dalla scatola e la vediamo nei dettagli. Allora all'interno c'è sempre la checklist. Con i personaggi che abbiamo visto sul retro. Eccoli qua. Nella nuova Wave. E questo è Sylveon. Molto bello. A me piace veramente un sacco. Perché ha i colori del bianco e rosa. Che per me sono il top uniti insieme. Stampato bene. Senza difetti. Perché gli ho fatto una radiografia. Che purtroppo questi personaggi Pokémon vengono fatti. Insomma. Se non li prendi da vicino a cacchio. Per non dire altro. Veramente fatto nei minimi dettagli. E' bellissimo. Adoro Sylveon. Guardate qua. Le definiture. Può muovere le gambine in questo modo. E' veramente stupendo. Cioè. Bellissimo. Un ottimo acquisto. E finalmente ho il mio amato Sylveon. Bene amici. Io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi do un bacione se vi vuole. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Hola.